Ben ritrovati al nostro spazio dedicato agli appuntamenti. Nella serata di mercoledì 25 settembre dalle ore 21 presso la chiesa di Santa Maria in coronata Martinengo si svolgerà il Festival Internazionale di Musica Antica, un recital del clavicembalista Enrico Baiano con meravigliosi strumenti di inizio settecento, ingresso libero. Continua poi a Orniano note di fine estate, la rassegna musicale che dalle 21 proporrà, come di consueto nelle sale del Castello Albani, un concerto a cura della New Pop Orchestra diretta dal professore Alfredo Conti. Sempre dalle 21 per il ciclo di More Design, Incontri con i Designer, si terrà un incontro con Alessandro Mendini, due volte vincitore del compasso d'oro e tra i più ammirati i maestri del design in Italia. Giovedì 26 settembre invece, nuovo appuntamento con Fiato ai Libri 2013. Nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo di Albano Sant'Alessandro, dalle 20 e 45 andrà in scena Una Solitudine Troppo Numerosa, uno spettacolo con Matilde Fakeris ad ingresso libero. Prosegue infine a Bocca Aperta, il Festival di Arte, Teatro, Musica e Cinematografiche dalle 17 di giovedì presso il Polaresco di Bergamo, presenterà Rap Poesia, un laboratorio di scrittura e interpretazione della poesia tramite il Poetry Slam.